Ciao a tutti amici, ben ritrovati nel canale. Allora per prima cosa voglio dire auguri a tutte le donne, augurare buona festa delle donne, buona serata a tutte le donne. Ok? E poi ben ritrovati a tutti e vi auguro una buona visione. Allora abbiamo portato tre biglietti oggi, e allora miliardario mega, un trist vincente e il miliardario da 5. Bene, allora sono stati presi a caso e vediamo un po' cosa ci porta la festa delle donne. Bene, ok, zoomiamo un po'. Incominciamo col miliardario da 5. Bene, allora numeri vincenti. Ok. 35, 41, 33, 38 e 25. Ok. Allora, primo numero. 23. Segue 16. Poi abbiamo 46, che non abbiamo. 45, niente, e 28, non c'è, abbiamo il 38. Poi abbiamo il 14, con il codice 32, che non c'è. Poi abbiamo il 26, e noi abbiamo il 25. 25, 29, niente, e 15. Ultima riga, 11, segue 31, niente, 18, 34, e abbiamo il 33 e il 35. Ultimo numero, 25, bene, la linea sempre all'ultimo si decide. Sempre all'ultimo mi esce qualcosa, ma magari almeno meglio di niente. Ok. Bene, vediamo un po' se ci porta il 25. 5 euro, ok, non ci sforziamo, sforziamo troppo. Bene, comunque non è importante, mettiamolo da parte. Passiamo al nostro tris vincente. Ok. Allora. Numeri vincenti. Questo è il biglietto che si gratta male, non so, sono io che non so grattare o si gratta male proprio. Allora, 34, 15, 28, 16 e 32. Ok. Allora. Prima stellina, nasconde 11, che non abbiamo. Poi segue 35, non c'è, abbiamo 34. Poi abbiamo 36, no, non ce l'abbiamo, e 41, che non c'è. Poi, di nuovo 41, bene, abbiamo trovato due volte il 41. Se ne troviamo un altro, vinciamo il primo bonus. Ok. 38. Niente, abbiamo il 28. 30. Non c'è. 44. No. 39. 39. Niente. 13. Non ce l'abbiamo. Ultimi due numeri. 18. Che non abbiamo. Ultima possibilità, vi è trovare il 41, ho un numero di qui sotto. 30, niente. Comunque 30 ce l'abbiamo anche due volte, vero? Allora, 32 volte, 41, due volte, non ci ripete niente, tre volte. Ok, ok, allora questo bigliettino non è vincente. Passiamo al nostro mega. Eccolo qua, il nostro mega miliardaria. Vediamo. Numeri vincenti. 20, 11, 22, 32, 35. Bonus 52. Ok. Bonus è il numero jolly, come si chiama. Ok. Allora, primo numero. 46. Sceglie 55. Poi abbiamo 25, 28, niente e 39. Poi 27, che non abbiamo, 12, ci abbiamo l'11. 38. 41, e 16. Niente di fatto, per il momento. Continuiamo. 17, 34. Niente, noi abbiamo il 35. 31, e abbiamo il 32. E sempre così succede. 15 e 54. Beh, ci va vicino al numero jolly, ma non è. 30, e abbiamo il 40. 36. Niente. 30, niente. Abbiamo il 20. 48, ultimo numero, 45. E niente di fatto, amici. E purtroppo questo bigliettino, bigliettino, bigliettone, scusate. Bigliettino, bigliettone, non è vincente. Ok. Bene. Comunque, diciamo bene. Abbiamo ripreso 5 euro. Una piccola... Un piccolo recupero c'è stato. E va bene così. Che ci possiamo fare? Ok. La festa della donna non ci ha portato niente di particolare. Comunque, non ha importanza. Auguri ancora a tutte e a tutte le donne. Buon divertimento questa sera. Se festeggiate. Ok. Un bacio e un abbraccio dall'alina. Ciao. Alla prossima grattata. Alla prossima grattata.